Qual è la prima tecnologia di comunicazione? La prima tecnologia di comunicazione è la scrittura. Tutti quanti noi sappiamo, ci ricordiamo dalle scuole elementari, che la scrittura nasce nella valle tra il Trigli e le Ofrate diversi migliaia di anni fa. La cosa divertente è che i primi esempi di scrittura che ci arrivano non sono storie, non sono racconti, non sono memorie di qualcuno che vuole raccontare, in realtà sono cose molto più prosaiche, sono dei sigilli che venivano messi sui sacchi di cereali nelle spedizioni tra una zona dell'impero ad un'altra zona dell'impero. Perché questo? Perché era importante per chi faceva la spedizione segnare esattamente il contenuto di quella spedizione, affinché qualcuno lungo la strada non rubasse una parte del carico. Allora si trova il metodo di andare a incidere su tavolette di cera che una volta seccate non potevano essere modificate, se non rompendole. Attraverso questo sigillo di creta io ero sicuro di poter comunicare a chi riceveva il carico esattamente la quantità di grano, di orzo che gli aveva spedito, il numero di sacchi, che cosa c'era dentro e anche chi era responsabile della spedizione, perché se fosse mancato qualcosa lui sarebbe stato punito. Nel tempo, diciamo, il sistema cambia, già mille anni dopo, sempre nella valle tra il Tigre e le Ufrate, compaiono i primi esempi di scrittura e questa volta sono il racconto di Gilgamesh. Quindi la scrittura diventa un modo per raccontare, per insegnare, anche per dare delle leggi. Il codice di Hammurabi si trova scritto sempre su tavolette che sono tavolette di creta che sono state seccate al sole. Nel tempo il sistema di comunicazione diventa quanto più possibile complicato. Come abbiamo detto nella lezione introduttiva, un esempio classico è quello delle stazioni di posta del sistema postale imperiale romano, che era fatto appunto di stazioni che collegavano, diciamo, a rete tutto l'impero. In queste stazioni era garantito al postino, cioè a quello che mandava i messaggi, la possibilità di riposarsi e di trovare un cavallo di cambio. In realtà nel tempo, quando il messaggio poteva essere semplificato o poteva essere quindi ridotto al minimo possibile, si sono trovate altri metodi per comunicare. Per chi abita nelle regioni del Mezzogiorno dell'Italia, le torri, diciamo, di avvistamento lungo le coste della Campania, della Calabria, della Puglia, facevano parte di un sistema di allarme che doveva essere in grado di trovare immediatamente, verificare, diciamo, l'avvicinarsi di un'incursione piratesca, in modo tale da poter avvisare tutti i territori contigui. Come veniva fatto, in maniera molto semplice, sulla torre dove era stato fatto l'avvistamento si incendiava un fuoco. Il fuoco quindi segnalava alle altre torri che a cascata propagavano il segnale in modo tale che tutte le torri della zona contigua e quindi tutti i centri abitati della zona contigua potessero essere avvisati. Per avere un'idea molto carina di come funzionava basta che uno si vede, diciamo, il film del Signore degli Anelli per capire esattamente come funziona. Un ulteriore passaggio successivo è stato, diciamo, l'uso di piccioni viaggiatori. I piccioni in realtà non viaggiano, sono degli animali molto stupidi in fondo, non fanno altro che ritornare a casa. Allora, il meccanismo è molto semplice. Io ho un piccione che è abituato, diciamo, a stare in una certa posizione, in una certa città, in una certa zona, lo porto con me. Quando voglio mandare un messaggio a casa, io in realtà non faccio altro che legare questo messaggio alla zampetta del piccione, lascio libero il piccione e per la meraviglia della natura questo uccello troverà automaticamente la strada di casa e quindi avviserà, diciamo, da dove io sono partito, avviserà, diciamo, che importerà il messaggio che ho inviato. Ora arriviamo nel tempo fino all'invenzione della stampa a caratteri mobili. La stampa a caratteri mobili è veramente un'invenzione travolgente perché rende molto più facile, molto più economico e anche molto più affidabile, diciamo, la scrittura e quindi la comunicazione. Con la stampa a caratteri mobili io posso comporre un testo facendo in modo che sia sempre quello, peraltro utilizzando dei caratteri che vengono standardizzati, cioè il carattere M è sempre M, la lettera L è sempre L e non che non sono soggetti all'errore della grafia di uno scrivano. In più, una volta che io ho creato la composizione coi caratteri, posso fare cento, mille, diecimila, centomila copie dello stesso foglio. Ora questo significa che il libro, l'informazione, la cultura diventa molto più, diciamo, a portata di tutti perché non è, mentre prima io per poter comprare la copia di un libro dovevo pagare uno, due, dieci amanuensi che facevano a mano questa copia, oggi invece, diciamo, dopo l'invenzione della stampa posso farne centinaia di migliaia di copie con un costo marginale, in modo tale quindi che un libro possa diventare patrimonio di tutti. Quindi significa che io ho imparato a comunicare in maniera più efficiente. Certo, non comunico ancora in tempo reale, comunico inviando un libro, inviando un messaggio, però in realtà ho già risolto il problema di comunicare con una enorme platea di persone e questo fa capire come a valle del 1500 si apre il famoso secolo delle invenzioni che poi porterà fino a 1700 e quindi all'illuminismo. Ma la vera innovazione nelle comunicazioni è l'elettricità. Non appena l'uomo capisce, scopre l'elettricità e scopre come produrre l'elettricità e come l'elettricità può essere usata per inviare informazioni, segnali, nel mondo delle comunicazioni arriva veramente un fattore dirompente. In particolare prima nasce il telegrafo, il telegrafo elettrico si basa di una connessione molto semplice tra due apparati di trasmissione che sono i classici terminali che servono a trasmettere punto e linea. In realtà si basa su una scoperta scientifica fatta da un ricercatore che si chiamava Hertz, cioè sulla capacità di poter modulare il segnale elettrico. Non appena si scopre la capacità di trasmettere segnali differenti, appunto la linea e il punto, altri ricercatori cercano di capire se è possibile inviare segnali più complessi perché si capisce immediatamente che più complessa è il segnale più sono in grado di trasmettere efficacemente le mie informazioni. Figlia dell'invenzione del telegrafo e quindi l'invenzione del telefono. Il telefono nasce per Meucci e qualche anno dopo Alexander Graham Bell, tutti e due capiscono che attraverso un meccanismo di trasduzione del segnale, cioè dal suono della voce ad una modulazione di un segnale elettrico, io posso trasmettere appunto la voce a distanza. Non a caso Alexander Graham Bell è un insegnante per sordomuti e quindi lui era in un certo senso affascinato dalla possibilità tecnologica di trasmettere il segnale della voce umana in modalità differente da quello che appunto usiamo noi, cioè attraverso lo spostamento di onde sonori. Una volta scoperto il meccanismo della capacità di usare la voce per modulare il segnale elettrico, Meucci e Bell inventano il telefono e scoprono quindi che è possibile trasformare il mio segnale sonoro in un segnale elettrico che potenzialmente può arrivare a distanze infinite. Dopo questo, diciamo, c'è un ulteriore passaggio che è quello dell'abbandono del filo per la trasmissione su etere. Marconi scopre che è possibile modulare un segnale non soltanto un segnale elettrico, non soltanto su un filo, ma con una tecnologia leggermente differente si può modulare un'onda elettromagnetica che si muove liberamente nell'etere. Una volta che io ho lasciato il vincolo del filo, i miei segnali possono veramente essere propagati in tutto il mondo.